Torna il servizio di salvataggio dal 1 giugno al 3 settembre dalle ore 9.30 alle ore 18.30. La balneazione sicura è prevista nell'ordinanza della Capitaneria di Porto anche per questa stagione 2023. E' interessa tutto il tratto di costa di competenza della Direzione Marittima di Pescara, da Martinsicuro fino a Campomarino e Molise, comprese le isole Tremiti. Si tratta della tradizionale ordinanza che disciplina gli aspetti di gestione del demanio marittimo da un punto di vista turistico. Il provvedimento regolamenta la balneazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività turistico-ricreative in mare e la Guardia Costiera, come di consueto, vigilerà sul rispetto delle norme di sicurezza con le relative sanzioni per i trasgressori. Particolare attenzione verrà riservata al rispetto della fascia dei 5 metri dalla vattigia che dovrà sempre essere lasciata libera per qualsiasi emergenza. Tra gli altri obblighi, la fascia di 300 metri dalla vattigia è riservata esclusivamente alla balneazione o al transito di canoe. Per esempio, tale area sarà delimitata con boe di colore rosso-arancione. La pesca con canna da riva sarà consentita nell'arco serale dalle ore 18.30 alle ore 9.30 e dovrà essere usato il corridoio di lancio per tutti i natanti che abbiano una qualsiasi propulsione, anche elettrica o per windsurf e similari. Anche per quest'estate l'impegno della Guardia Costiera mira ad assicurare l'attività di soccorso in favore di bagnanti, di portisti e subacquei, ha dichiarato il direttore marittimo di Pescara il capitano di vascello Fabrizio Giovannone e saranno intensificati i controlli su tutte le attività svolte in mare per prevenire condotte illecite, pericolose per le persone, per il patrimonio ambientale ed ecosistema marino e per le risorse ittiche. Si ricorda a tutti che il numero blu per l'emergenza in mare è il 15.30. Chiama la Guardia Costiera